Parliamo oggi delle graduatorie che in questo momento sono ancora bloccate ormai da qualche anno. Qual è la posizione in questo momento del PD? Questa vicenda delle graduatorie è soprattutto relativa al progetto integrato giovani e alla 411 che sarebbe l'ampliamento aziendale. È una cosa che abbiamo portato avanti in commissione, in particolare l'ultima commissione che fu fatta il 23 luglio dello scorso anno. Ci fu una risoluzione, tra l'altro votata all'unanimità, rispetto alla quale si impegnava la Giunta a far scorrere la graduatoria per queste due misure. Sono passati quattro anni da quando sono stati emanati questi bandi. Io credo che sia arrivato il momento di dare delle risposte e soprattutto per il progetto integrato giovani ci sono tantissimi ragazzi che non hanno più l'età per rientrare poi nella richiesta. Tra l'altro il regolamento europeo prevede che una volta che si è partecipato a un bando per il PIG non si può partecipare al successivo. Quindi la Giunta si deve far carico di risolvere questa problematica e oggi questo abbiamo chiesto all'assessore Caputti. È ovvio che non si può immaginare uno scorrimento delle graduatorie totali perché il plafone economico coprirebbe circa il 30% del plafone finanziario della prossima programmazione ma sicuramente uno scorrimento importante per la prima parte della graduatoria è plausibile e credo che verrà fatto. Considerate che all'incirca parliamo di un miliardo e otto nel prossimo quinquennio che non è ancora definito. È definito perché è uscito il regolamento transitorio della Comunità Economica Europea che ha stanziato un miliardo e sei per l'anno corrente, un miliardo e tre e cinquanta per il 2022 per l'Italia, per il programma di sviluppo rurale. Allora se la quota aspettante alla Campania la si volesse caricare solo quella sul PIG, insomma, già copriremo la spesa. La politica deve essere chiara e si deve far carico di queste vicende.